ma praticamente siamo pronti per la partenza favorito in questo momento è Dorlo Colms partiti cavalli della terza corsa la prima della stagione in erba a capannelle 2021 buona partenza per tutti il più veloce giustamente è intro d'acqua che approfitta della situazione vicino alla corda in seconda ci si posiziona proprio Dorlo Colms che segue le mosse d'intro d'acqua Clap Trap dal lotto di steccato converge verso la corda con Dario Vargio che guarda il suo avversario addirittura prende la leadership più al centro della pista ci sono Aurel, Rainbow Dash, anche Free Folk che si è posizionato proprio vicino alla stessa Clap Trap la quale è ancora in vantaggio quando mancano 400 metri dal traguardo Clap Track è davanti nei confronti di Free Folk più al centro della pista c'è Rainbow Dash prova a mettersi sulle gambe anche Magic Jet dietro a questi non ha spazio intro d'acqua 4 cavalli in lotta con Rainbow Dash che aggredisce cattiva Clap Trap dall'esterno ci provano Aurel e lo stesso Magic Jet con Rainbow Dash in vantaggio nei confronti Clap Trap Rainbow Dash che veste il paraocchi e torna a vincere laddove aveva fatto bene al debutto vince dunque Rainbow Dash quota davvero interessante interessante 11 la sua quota questa mattina adesso era scesa Gian Pasquale Fais in sella il training e i colori sono quelli di Paolo Aragon rivediamo le battute conclusive e la prima corsa in erba l'ha vinta proprio Rainbow Dash 6 al primo posto vediamo per il secondo perché sono molto vicini Clap Trap ma quest'ultimo ha preso sicuramente la piazza al terzo Magic Jet 6, 7, 5 l'ordine d'arrivo per la cronaca solo quarto posto per Aurel vince dunque Rainbow Dash che ottiene così la seconda vittoria in carriera la prima l'aveva ottenuta proprio su questo segmento evidentemente si è specializzata sul chilometro secco vince dunque numero 6 dello schieramento grazie a tutti grazie Grazie a tutti